Ciao a tutti, oggi siamo da Siena a vedere il loro roadshow con questo track che girerà l'Europa e ora sono in Italia, vediamolo insieme all'interno. Oggi siamo a bordo del track viaggiante del Mobile Innovation Lab, cioè il nostro laboratorio mobile che viaggia continuamente in giro per l'Europa e il resto del mondo. Questo è un modo per essere vicino ai clienti, al mercato e dimostrare le strategie e le soluzioni innovative di Siena. Siena Active Edge 5004 è la piattaforma di punta che costituisce la proposizione per la parte di Packet Optical Switching di Siena. Grazie all'acquisizione della divisione ottica di Nortel, oggi Siena è il fornitore a livello mondiale esclusivamente focalizzato sullo sviluppo delle reti ottiche su protocollo Ethernet, che pensiamo che costituiscano il fondamento reale delle reti di nuova generazione. Insieme a questa parte, uno dei pilastri tecnologici di Siena è altrettanto comunque la proposizione sulla parte Packet Optical Metro e tutto ciò che costituisce invece l'offerta per la parte Careo Ethernet. Qui vediamo la possibilità di implementare soluzioni applicative non solo per le reti fisse, ma anche per le reti mobile di nuova generazione. In particolare l'Active Edge 5100 e 3100 funzionano, lavorano, servono per offrire soluzioni in ambito wireless backhauling e per l'offerta diretta o tramite gli operatori di comunicazione ai mercati di business verticali per servizi Ethernet alle imprese. Il traffico video è sicuramente un esempio classico di necessità di bande in più sulle reti di trasporto ed è di sicuro il driver che sta portando all'introduzione di transponder a 100 gigabit, di canali a 100 gigabit e nel futuro anche superiori nelle reti di trasporto. Con la nostra tecnologia coerente siamo in grado di garantire la miglior qualità su questi tipi di servizi. Siena's core networking solutions comprised of our OTN switching and our OTN control plane and underpinned by our 10, 40 and 100 gig WDM is very much about modernizing the core of our customers' networks and also primarily reducing the cost per bit. We're seeing huge bandwidth growth in the industry so it's really important that we leverage the latest technology to reduce that cost per bit and hence make our customers more profitable. Our 10, 40 and 100 gigabit WDM is industry leading in terms of cost per bit and our OTN mesh, what that really means is about building multi-city network connecting it all together and getting the most out of that mesh connectivity. the fact that they're all connected together, getting efficiency out of that making it as simple as possible to provision services from one end to the other without human intervention, reducing the capital expenditure and the operational cost of running those core networks. Okay, so Siena's portfolio of high capacity, very scalable, very flexible transport technology combined with our rich array of enterprise-facing partners gives us the opportunity to serve the emerging cloud market extremely well. Siena's placing tremendous investment not only in transport infrastructure, ultra-high capacity, extremely scalable, flexible transport infrastructure but also the software that controls it. Now, the new dynamics of cloud services being on-demand IT service delivery demand that kind of capability and flexibility from the network and after all, it's the network that really underpins cloud services. Without the network, the cloud wouldn't exist. Clouds today will be data centers connected together by ever greater quantities of bandwidth requiring ever greater degrees of flexibility. The combination of our world-class transport technologies plus that investment in software really brings cloud services to the end customer today. So that's where Siena's focus is from a cloud point of view, the ability to deliver storage, to deliver compute and to deliver virtualized networking on-demand whenever needed. Okay, so I'm presenting KaryEthernet solution portfolio from Siena actually called CSD, KaryEthernet Service Delivery. which is a portfolio made of both switches of various ranges and sizes adapted to both carrier sites and core networks of the carriers and also a common software suite which is providing a homogeneous service delivery above all these platforms. Target applications are the Layer 2 Ethernet transport and Layer 2.5, so the Layer 2 based on MPLS transport allowing it to serve enterprises, wholesalers and mobile operators with this simple and powerful KaryEthernet solution set. In terms of differentiators, we can mention a powerful OEM operation and maintenance suite, a very broad range of platforms including hardened platforms to be deployed in outside environments and a common operating system which is providing flexibility to the carrier to deploy any service at any place on any equipment. Postatemi sul blog, ciao!